C'è da approfondire, c'è da fare ricerca. Prendere al via lunedì 27 giugno a Palazzo San Michele Affano, la prima edizione della Vitruvius Summer School, un corso di approfondimento sui temi vitruviani che si snoderà fino all'8 luglio. Ad oggi sono 10 gli allievi iscritti, tutti laureati, specializzanti o dottorandi di ricerca in architettura, storia dell'arte e archeologia. Sarà un corso di alta formazione con i più importanti studiosi a livello mondiale di Vitruvio. Ci saranno lezioni frontali, delle mini conferenze, delle esercitazioni sui manoscritti vitruviani, quindi sulla lettura dei testi e sul rilievo architettonico. Ci saranno anche delle visite nel territorio Urbino, Fano e altri luoghi importanti della nostra vallata. Il Centro Studi Vitruviani è impegnato anche nella rivista Vitruvius. Il primo numero verrà presentato nel corso di passaggi festival, venerdì 24 giugno alle ore 18, nella chiesa di San Francesco. Queste iniziative, ha sottolineato il sindaco, fanno parte di un percorso su cui abbiamo puntato in questi anni. Un modo per far conoscere la nostra città, ma soprattutto il valore di altissimo livello, perché tutto il comitato scientifico, che come tutti noi sappiamo è di prestigio internazionale e mondiale, nel vero senso della parola, saranno qua per questa Summer School. Quindi è una Summer School di altissimo livello, per cui non posso che manifestare la soddisfazione, ma è anche un percorso e un'ambizione che il Centro Studi Vitruviani ha nel proseguire e nel far conoscere Fano e Vitruvio, la sua opera nella nostra città al mondo. Il progetto è stato possibile anche grazie all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che ha inserito l'iniziativa tra i suoi corsi di specializzazione post laurea con rilascio di crediti formativi. Stiamo lavorando tanto su tante cose, rapporti con imprese, con enti pubblici, con associazioni di volontariato. Cerchiamo di mettere a disposizione i risultati delle nostre ricerche, quindi la nostra conoscenza anche al servizio del territorio. A confermare supporto anche all'Università Politecnica delle Marche e al lavoro per ulteriori progetti. Proveremo a verificare la possibilità di cofinanziare con l'Università di Urbino dei percorsi di dottorato su queste tematiche. Sapendo che l'approccio, viene bene anche questa collaborazione tra le università, è sempre di tipo multidisciplinare. Ormai si sta abbandonando la logica di entrare in maniera molto verticale su un tema, senza invece fare riferimento a tante discipline che possono dare contributi molto forti. Se pensiamo al tema culturale, pensate solo alle nuove tecnologie, al digitale. Quindi ce n'è da aggiungere in continuazione.